Nato a Cagliari il 26 marzo del 1984, nickname Draven, l'unico giocatore italiano nella storia capace di arrivare al tavolo finale del main event della World Series of Poker, il torneo più prestigioso del mondo, ha vinto 3.092.000 dollari, arrivando quarto su 7.319 iscritti dopo 9 giorni di torneo, fino ad allora aveva vinto 200.000 euro in carriera, vive ancora a Cagliari, comprare sale grosso, acciughe e preparazione H, facciamolo entrare, Filippo Candio. Buonasera. Ciao Filippo. Buonasera. Grazie per l'epitazio. Figurati, grazie a te di essere intervenuto. Allora, ciao Jasmin, 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 scusa perché sbaglio sempre. Allora, Filippo, com'è scoperto il Texas Holden? Andavo all'università, al bar dell'università, girando un po' sul computer, mi sono sempre piaciuti i giochi di carte, ho trovato questo Texas Holden, mi sono infilato in questo gioco, mi sono innamorato e ho continuato così. E ti è rimasta come passione che poi hai portato avanti con grandi risultati. Senti, tu stai attento alla tua immagine o per soldi ti faresti sponsorizzare anche da Beppe Lozzozzone? Onestamente penso che anche Beppe Lozzozzone sarebbe... Basta che paga, insomma, giustamente. No, perché magari sei inquadrato da televisioni di tutto il mondo, leggere Beppe Lozzozzone, però tu dici, se mi paga, finché paga va benissimo. Scusa, nel poker quanto conta la tecnica? 100%. Ecco, e il culo? Zero. Zero. Proprio zero dici, eh? Proprio tu lo dici, poi vediamo anche perché. Bene, tu hai vinto più di 3 milioni di dollari in carriera, ecco. E quante escort hai contattato dopo aver vinto questi soldi? Devo anche rispondere. Eh beh, sì, certo. No, io sono felicemente fidanzato. Vabbè. No, scusa. Bene, senti, quando giochi tu ti vesti anche tu col cappelletto, con le felpe colorate, con le cuffie, insomma, da soggettone? Allora, prima di vincere, no. Adesso che ho vinto invece mi sono trasformato in Batman. Ecco. Devo dire un'altra cosa così, effettivamente, mettono un po' un po' più paura. No, scherzo comunque. No. In generale ho sempre usato le cuffie. Le cuffie sono utili, eh? Giocando a tante ore, alla fine c'è un po' di noia per mantenere la concentrazione, anche un... Ma le cuffie servono per... non si sente musica nelle cuffie? Sì, sì, si sente musica. Ah, musica, quindi è proprio per... No, io pensavo, per non sentire magari gli altri, per non sentire i commenti, invece sentite musica. So che tu... so che sei stato penalizzato per una tua esultanza un po' troppo esagerata. Sì. Potresti rifarcela? Eh! Sì! Beh, meritatamente penalizzato sei stato, insomma, giustamente. Senti, tu preferisci, questa è una domanda tecnica, preferisci avere KK da UTG, donna-donna da bottone o 7-2 in middle position? Seriamente KK da UTG. Ah, ok. Poi dipende dalle situazioni, anche un 7-2 da middle position potrebbe essere una mano interessante. Addirittura. Contro di te, per esempio, anche 7-2, secondo me sarebbe un'ottima mano. Sì, secondo me, sì, anche secondo me. E' più forte Hulk o la cosa? Ah, beh, l'incredibile Hulk. Hulk, anche secondo me. Non è una curiosità mia, però appunto, siccome io pure l'ho convinto Hulk, allora lo chiedo sempre questo. Senti. Quanto è importante essere aggressivi nel Texas Holden? Eh, 80%. Beh. Senti, chiedi scusa quando fai uno scoppio? No. Ah. Quando fai una puzzetta? No. Neanche. Beh, giusto, neanche io. Senti, cosa ti ricordano queste due carte? Guardate bene. Che culo. Beh, scusate. Una grande mano. Beh, diciamo che è quello 0% che in questo gioco non esiste. Abbiamo anche il contributo. Vediamo come è andata con queste due carte. Voglio fare questo. Visso. Voi. Woi. Voi. Voi. Alla? 4.4 I'm all in. I call. Call. Yes! 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 Oh my god! 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 Filippo, sei permaloso al tavolo? Oh! Ma come ti permetti? Che io... Scusa, perché ho fatto una domanda forse non... Scusami Filippo. Questa gente. Senti, dopo aver vinto 3 milioni di dollari, vai tutti i giorni al billionaire? Beh, io onestamente non ci ho mai messo piede, però ci andrò quest'estate. Tu sei mai stato? No, no, io vado al Proreter che sta alla Dispoli. Sono un cliente abituale proprio. Tu sei uno di quei giocatori che sta sempre a raccontare la sua ultima mano a un altro giocatore? No, è una cosa che non sopporto. Bene, quindi non sopporti e quindi anche se te la raccontano... Io faccio finta di non parlare l'italiano. Ah, ecco, perfetto. Parlo in sardo. Filippo, scusa, ti interrompo, mi fanno cenno dalla regia che sta calando un po' l'ascolto. Quindi... Yasmin? Grazie, no? Sta calando un po' l'ascolto. Grazie. Ok, si mi fanno cenno che gli ascolti sono tornati finalmente. Sono tornati su. Però, Yasmin, scusa, puoi andare. È finito il... Essere o non essere, questo è il problema. Che stai facendo? Sono un'attrice. Senti, per cortesia, grazie. Ma io sono anche regitare. Lo so, lo so, lo vediamo dopo, grazie. Ma torniamo al nostro campione. Allora, dunque, un'ultima domanda, insomma, prima di chiudere. Dopo aver vinto un torneo, fai lo champagnone oppure fai la formichella, la formichina e metti tutto nel bankroll? Bene, sono d'accordo. Chiudiamo con questa ultima domanda. Ecco, questa è un po' tecnica, però, come domanda. Allora, secondo te... Io mi ipotizzo questa mano, no? Abbiamo 6-7 suited in middle position e c'è un race da parte di un giocatore che tu pensi stia bleffando. Secondo te è meglio contro Mettaro o Meste? Eh? Grazie. Salutiamo Filippo, il nostro grande campione che ci è venuto a trovare. E lo avremo ospite, spero, ancora qui. Grazie Filippo, grande, mitico. Filippo Gambio. Grazie. Grazie.